Mitu, noi lo sapevamo che avevi giocato bene, però addirittura ero il miglior giocatore. Sono molto contenta, dopo l'ansia e dopo tutto mi sono impegnata tantissimo per raggiungere questo premio. A chi lo vuoi dedicare questo premio? A mia mamma, perché mi sopporta. Tante belle cose per queste finali. Sono contentissima, l'ho scudetto per la sesta volta, il primo individuale, davvero non me l'aspettavo. Sono davvero contenta e ringrazio la mia squadra perché sono stato unito dall'inizio fino alla fine. Questo invece a chi lo dedichiamo? Non lo so. Allora, miglior palleggiatore anche quest'anno, ti confermi? Non lo so, sono super felice, ma l'importante è che abbiamo vinto. Cioè, sinceramente, vabbè, è una soddisfazione, chiaramente. Non lo nego, però il quarto scudetto è la cosa assolutamente più importante. Ottima soddisfazione. Insomma, chi fai questa dedica del miglior premio? Ma allora, sicuramente a una persona che spero guardi questa intervista e spero si renda conto che lo sto dedicando a lei, ma sicuramente ai miei genitori perché, vabbè, è inutile dire che mi sono sempre stati dietro, hanno fatto mille sacrifici e gli devo assolutamente tutto. Bene, grazie.